Laterale per il Livest, 29 ottobre 2016, gara di campionato Levi, secondo anno 2000, categoria provinciale, cioè fase provinciale, chiedo scusa, siamo qua in Vioranese per questa gara di campionato tra il bianco-blu del Vittorio Idas e i rossi del centrocampo, e questo è un grande gol, questo è un grande gol, bel sinistro, sul secondo palo, bello, bello, bello questo gol, 2-0 doppietta del numero 9